Dal 18 al 21 marzo 2014 in Fiera Milano l'efficienza energetica incontra il mercato a MCE, mostra convegno Expo Comfort. La manifestazione leader nell'impiantistica civile ed industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili, che si presenta con un'ampia offerta espositiva in tutti e quattro i macrocomparti, freddo, caldo, acqua ed energia. Siamo in compagnia di Stefano Bellino, direzione commerciale Italia per BM2, ci vuole presentare brevemente l'azienda? Sì, certo. La BM2, come vedete dal nostro marchio, che è ben esposto qui in azienda, nello stand, è il 35esimo anno che la BM2 è nata, specializzata nel mercato del riscaldamento mobile ed emergenza, nonché macchine e pulizia industriali ed umidificatori. Sicuramente noi siamo quelli del riscaldamento ed emergenza, siamo famosi in tutto il mondo per risolvere problemi di emergenza, sia nel gelo, in mantenimento fuori gelo, di qualsiasi ambiente, dagli allevamenti, alle serre. Quindi il gelo e il freddo per noi è il nostro amico principale, quest'anno non ci sono stati anche fortunati, però questo rappresenta il nostro core business. Quanto prima speriamo di avere inverni freddi e rigidi a poter gestire meglio con le nostre apparecchiature. L'azienda BM2 è nata proprio con questi sistemi, con queste attrezzature, specializzata poi con altri per arrivare fino a sistemi di demodificazione e pulizia industriale. Una considerazione sulla vostra partecipazione a questa fiera, come sta andando e perché avete deciso di partecipare? Allora, questo è il primo giorno, sicuramente non abbiamo ancora avuto contatti esaltanti, probabilmente domani, spero dopo domani, avremo visite importanti, soprattutto dal mercato estero. Il mercato italiano è fermo, non ci sta dando grandi soddisfazioni, noi continuiamo a investire in questo settore facendo fiere di questo tipo, che comunque rappresentano esborsi monetari importanti, però il nostro credo quindi andremo avanti lo stesso. Ci siamo, penso che anche altre edizioni saranno comunque confermate, è la nostra fiera, quindi dobbiamo esserci. Assolutamente. In questa occasione particolare è presentato un prodotto, un progetto? Beh sì, diciamo che abbiamo, questa volta abbiamo presentato le macchine nuove elettriche, novità assoluta, macchine diciamo così da 3 kilowatt, 10 kilowatt, 15 kilowatt, con accorgimenti tecnici particolari che nessuno ha, tipo la conduzione dell'aria stessa tramite guaina. Abbiamo poi inserito nuovi modelli per quanto riguarda anche il settore dell'allevamento, colture sottosera, insomma ci stiamo specializzando in aree di mercati e nicchie, di mercato diverse, per poter essere così presenti dappertutto in più settori, in più categorie merciologiche. Grazie. 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 Grazie.